Beh, innanzitutto io credo che un pellegrinaggio a Roma dà sempre il senso dell'universalità della Chiesa. Ecco, sentirci, soprattutto dopo un'udienza generale, sentirci veramente i membri di una grande famiglia che va dall'Oriente all'Occidente, ecco. Quindi sentirci membri vivi di questa Chiesa. E poi vuole anche significare un impegno, un impegno di riscoperta della nostra fede e nello stesso tempo un invito, un proposito, ecco, di cambiare la nostra vita, di essere veramente al servizio del Signore, di sentirci veramente fratelli, solidali e nello stesso tempo servizievoli e capaci di andare incontro a tutti.